Musica Musica Si comporta come una luc... No, non è si comporta come una luc... No! L'universo è pieno di buchi neri No, 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 no Porca troia Buchi neri, l'universo è pieno di buchi neri Boh Buchi neri, l'universo è pieno di buchi neri ma porca troia buchi neri l'universo è pieno di buchi neri ma non si vedono perché non li vogliamo vedere o perché sei strutto non si vedono rastismo astrofisico su re-education al channel questa è la placere di farti si si la rifacciamo devi fare una piccola pausa appena è finito rastismo nell'universo buchi neri l'universo è pieno di buchi neri ma non si vedono perché sono neri o non li vogliamo vedere perché sono neri ma che cazzo peppa troppo neri ci sono però si si ci sono ma questa è la difficoltà buchi neri aspetta eh aspetta eh buchi neri l'universo è pieno di buchi neri ma non si vedono perché sono neri o non li vogliamo vedere perché sono neri rastismo astrofisico su re-education al channel un po' di cicero devo fare ok va bene i bianchi non possiamo discriminazione la discriminazione sui buchi neri come i buchi bianchi come mandare il cotone sullo spazio e nello spazio piantare il cotone nello spazio non si pianta il cotone se riaprima guarda guarda faccio quella lì quella lì che fa il prossimo venerdì che giorno è il prossimo venerdì? venerdì confondimenti di giorno su via di te bella questa perfetto arredamenti? parquet? parquet di Murano parquet... parquet e parquet no 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 il video è così parquet parquet in legno parquet in legno parquet in legno parquet in legno parquet no perché scegliere un pavimento in legno? parquet in frasino parquet in cilizio parquet in vetro di Murano parquet sorridi il cerchio le canne siiii non hai detto? i parquet dell'uomo lo sapevate? l'amante di redigiosa dopo l'accoppamento l'accoppamento ho detto ma che cosa pensi ora? si accoppiamo l'accoppiamento dovresti fate eh? va bene? ok ma non ho desistato si tocca rifare attacchiamo anche le volte che faccio quelle lì non buono